pagelle carne secchi 6 e mezzo 2 barra 3 buoni interventi anche se alla fine non so perché sui cross prende palle si butta in terra cazzo devi alzarti e lanciarla dobbiamo vincere vabbè vasquez 6 e mezzo rinato locosvili 6 e mezzo anche lui una roccia se andiamo in serie b locosvili resta e gioca titolare valeri 5 e mezzo in fase calante ai vu 5 e mezzo rallenta sempre l'azione sempre in passato con la palla tra i piedi castagnetti voto 6 e mezzo con lui la cremonese gira di più pickel voto 6 come la sua maglietta il numero della sua maglietta galdames non mi sta dispiacendo però gli do 6 gli do 6 ha un buon piedino ok re che sei e mezzo per il gol ma un pasticcione ancora un pasticcione però sei e mezzo per il gol ciofani 6 e mezzo anche lui nonostante la maschera all'ausimen lotta su ogni palla e fa sempre la sua gara di sacrificio andando anche a impensierire montipò con un bel colpo di testa nel primo tempo subentrati felix 5 e mezzo sbaglia molte ripartenze che potevano essere pericolose ferrari 6 normale poi che cazzo è entrato ragazzi buon aiuto 6 6 ma poteva essere un voto un voto superiore fermato sul più bello in un contropiede allucinante fermato da doveri lasciamo stare e c'era anche un mezzo rigore su di lui quagliata due e mezzo non era da rosso non fa niente era d'arancione non fa niente tu non puoi fare un'ingenuità del genere in questo momento della stagione in questo momento della partita due e mezzo ballardini sei preparato bene la partita nel primo tempo poi poi volevo una cremonese più più vogliosa di cercare il secondo gol ha una scusante ragazzi che non ha non ha praticamente la panchina vota doveri due niente ragazzi ci vediamo mercoledì per milan cremonese non si molla un cazzo non si molla un cazzo